Sono 21.900 le dosi di vaccino Novavax destinate come prima fornitura all'Abruzzo dalla struttura commissariale nazionale. Da oggi dunque prendono il via le somministrazioni negli hub delle ASL ai quali sarà possibile accedere senza prenotazione. Qui siamo a Pescara dove il dottor Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale, ci aggiorna sulla situazione. Oggi l'esordio di Novavax, il vaccino che potrebbe, il condizionale d'obbligo, convincere anche gli scettici. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene. Nella prima ora abbiamo già vaccinato circa 10 persone con Novavax e speriamo che questo vaccino possa indurre le persone non vaccinate a vaccinarsi. A chi è rivolto? Magari agli scettici? Lei pensa che i Novavax potrebbero essere convinti da questo vaccino, come dire, tradizionale? Ma speriamo che possa fare qualche cosa, questo vaccino possa indurre la vaccinazione in Novavax. Lo ritengo molto difficile, però sicuramente a quelle persone che hanno un po' paura, timore del vaccino, questo è un vaccino di vecchia formulazione. Viene fatto, è molto simile al vaccino per l'epatite B e al meningococco, al vaccino per il meningococco come formulazione. Ecco, in che cosa differisce dai vaccini ad mRNA? È un vaccino a DNA ricombinante, quindi su un microorganismo viene messa una particella del codice genetico che permette a questi microorganismi di produrre l'antigene. L'antigene viene raccolto e purificato, associato a un adiuvante per aumentarne la capacità immunitaria. Effetti collaterali? Uguali a quelli di tutti gli altri vaccini, né più né meno. Gli hub vaccinali sono aperti, occorre la prenotazione o no? Gli hub vaccinali sono aperti, non occorre la prenotazione e dal primo marzo cambieremo gli orari e quindi invito tutti quanti a vedere sul sito della ASL di Pescara gli orari di apertura. Campania vaccinale Novavax a parte, ha subito una battuta d'arresto o no? Più che battuta d'arresto c'è stata una forte riduzione. Siamo passati negli ultimi tre settimane da circa 4-5 mila vaccini al giorno a mille vaccini al giorno, ma questa riduzione è dovuta al fatto che negli ultimi mesi, dicembre, gennaio e febbraio, ci sono stati tanti positivi che hanno fatto una vaccinazione, possiamo dirla, naturale. Quarta dose a chi è rivolta? È rivolta a tutti i soggetti che hanno il sistema immunitario compromesso, quindi non so chi fa terapie farmacologiche per ad esempio i trapiantati o fa terapie immunosoppressive, per cui hanno un sistema immunitario con una funzionalità ridotta e il vaccino, la quarta dose, serve a stimolare ancora meglio questo sistema immunitario ad essere coperti ulteriormente. Tornando al Novavax, ancora qualche precisazione. Il vaccino è destinato agli over 18 ed è previsto un richiamo a distanza di tre settimane dalla prima dose.